Passate la tv per favore, sono in live Sono in live Ok, questo è l'unica televisione Oh oh, oh 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 oh, oh, oh Oh oh, 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 oh Bell, rapideo Hai visto la piccolissima live? La piccolissima live da 4 minuti Oh Eh Ecco Io non c'entro tanto su sto account Che sono sti questi? Vabbè Perché sono con la skin Con la no skin Vaffanculo La mia skin Ti stavo dicendo quello che non ti so più per tanti giorni Frolla è piccola ovviamente Negozio Meglio non guardare il negozio oggetti Che sono queste cose? Non ci gioco da tanto a Ford in data che mi si è rotto il televisore Oh mio Dio Provo questo Trovo a distrutti strana La coppa Celebration Non è sicuro che io vincerò qualcosa E dai però nessuno mi regala mai pesce secco E che cazzo Sì mi sono già un po' ricoglionito Perché mi si è spaccata la belledetta televisione Io adesso sto facendo live Dalla televisione del salotto Sono solo per 20 minuti live Per fortuna Wow Proprio wow Comunque hai visto che ti ho messo moderatore? Lezione di Dico Dico Chi è Dico? Chi è Dico molto adesso 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 vediamo non 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 niente di che bro aia aia che non gioco tanto da forte per questo mi muovo un po' strano non è che hanno aggiunto qualche impostazione strana no proprio che bello quando mi uccidiano dai dai uccidi no 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 sta fondamentale non è che sia bella però comunque puoi giocare che sono solo 20 minuti e non posso questo giocatore mi da paura molta paura la 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 io voglio vincere su sto torneo per averlo benedetta e di di invitare qualcuno vediamo non c'ho mai 200 200 non posso comprare uno no neanche ma invito qualcuno va bene vediamo vediamo ah 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 di riluco play doodoo di capra e paolo mhm 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 sto cercando di invitare qualcuno che non mi dice oh ma vaffanculo no non c'è nessuno che non mi dice oh ma vaffanculo che mi ha invitato questo insieme che in pratica si dice che mi ha invitato che mi ha invitato che mi ha invitato mi ha invitato che mi ha invitato se c'è qualcuno mio padre che torna per questo la live ti ha scritto venti minuti sei con l'amica sei con sei con ciao bro sei con l'amica in vitals e power così tante sfide vediamo da quell'inizio queste no io non ce l'ho sto io non ce l'ho te ho detto oh belle stavrapp chi invito? dimmi io non ce l'ho c'è Torino come c'è? con molla il te eh facci un po' di singolo va bene? ahiaiaia perché non dentro da così tanto su ma l'amicizia bacca la carne e poi manda la mirtu ma ciao oh ma come mai sei sempre disoccupato oh oh non c'è niente da fare certo sono io sono io c'è la carne accanto accanto aspetta che mi finisco sta partita la mia sensibilità è strana bro non so perché non gioco da tanto forse però è molto strana non si muove più liscio non so se hanno modificato tipo le impostazioni non si muove più liscio come prima e io ahiaiaia lag 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 174 ping lag introverso ma vaffanculo per 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 adesso controllo una cosa c'è va bene va bene ti ho detto un po' Grazie a tutti Non ho trovato un po' di richieste Grazie a tutti No, no, no Dov'è che ha questa sensibilità? Oh, alai Vecchia scola Non va fluido Non va tanto fluido Perchè cazzo? Non va fluido? Comunque lo so il moderatore un giorno Di questo No, no, no Non so neanche scrivere No, no, no Perchè cazzo bipolar Perchè cazzo Aspetta, ero entrato nel lobby, aspetta il mio telefono. Aspetta il mio epoclete a telefono. Aspetta il mio 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 telefono.